Cosa vuole fare il governo? Il nuovo ministro ha detto che è favorevole alle grandi infrastrutture ma ha detto anche che vuole un tavolo per rivedere quei progetti. Rivedere alcuni di quei progetti vuol dire perdere altri 4-5 anni. Un paese che ci mette oltre 20 anni a costruire un'idea di infrastrutture prima di aver aperto un cantiere non è un paese all'altezza del mondo. Grazie. 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 Grazie.